Mare inquinato, problema trascurato per troppo tempo, il commento al Corriere della Calabria del procuratore di Vibo Valencia Camillo Falvo sulla maxi operazione DIP non è risolutiva dice perché servono interventi strutturali ma stiamo facendo tanto e sui comuni molti non sono neanche collegati ai depuratori. Prende forma la nuova governance del settore ambientale ok della giunta regionale all'istituzione dell'autorità di fiuti e risorse idriche Calabria con la presenza dei comuni prevista la soppressione dell'AIC. La regione verso l'acquisto delle termine luigiane fin Calabra su richiesta del governatore Roberto Occhiuto valuta l'acquisto della Sateca ma l'idea è quella di creare una società che gestisca tutto il settore. 90 milioni per 4.000 precari nuova fase storica per il precariato calabrese è pubblicato l'avviso per l'ammissione al finanziamento regionale ora dopo anni di battaglie per lsu e lpu tocca ai comuni. Nuova edizione dell'altro Corriere Tg ben ritrovati come sempre da tutta la nostra redazione lo avete sentito dal nostro sommario apertura del nostro Tg che dedichiamo a quella che è stata una maxi operazione una delle più importanti degli ultimi anni che ha riguardato la tutela ambientale la depurazione e soprattutto quella che è la situazione dei nostri mari dei mari calabresi soprattutto però quella dei mari dell'avversante tirrenico della nostra regione. La notizia di pochi giorni fa l'operazione la maxi operazione dip condotta in tre territori provinciali quello di Cosenza Catanzaro ma anche Vibo Valencia altro non è però che il risultato di quella mega task force annunciata nei mesi scorsi da due procuratori quello di La Mezzia Terme Salvatore Curcio e quello di Vibo Valencia Camillo Falvo che avevano appunto annunciato una sinergia per cercare di contrastare quello che è l'inquinamento del mare un problema come poi ha ricordato lo stesso procuratore ai nostri microfoni e sentito dal Corriere della Calabria un problema che è stato per troppi anni trascurato e dunque adesso è tutto c'è il lavoro da fare che è ancora tantissimo nonostante i risultati ottenuti con questa prima operazione che tra l'altro non sarà certamente l'ultima e ancora il procuratore ha ricordato che bisogna comunque risolvere quelli che sono i problemi strutturali della nostra regione sentiamo Tutto era partito con l'annuncio di una nuova mega task force un'unione di intenti e soprattutto di forze per dare un segnale decisivo al contrasto dei reati ambientali e l'inquinamento del mare calabrese soprattutto quello del versante tirrenico in campo due procure quella di Lamezia e Vibo Valencia è una rete di esperti e forze dell'ordine un lungo percorso anche tortuoso fino al primo importante risultato tradotto nella maxi operazione dip portata a termine nelle province di Catanzaro Cosenza e Vibo Valencia commentata con favore dal procuratore di Vibo Camillo Falvo Questa è un'attività che va fatta in questo modo, in modo capillare anche perché i problemi del mare e della depurazione sono tanti. Adesso l'impegno soprattutto nella fase depressiva è tantissimo, lo schieramento di forze altrettanto e non credo che sarà risolutivo perché purtroppo non è sufficiente sequestrare i depuratori o comunque individuare i posti in cui la depurazione non la viene affatto, che sono anche questi tanti purtroppo lungo la costa, soprattutto quella tirrenica perché è su quella che ci stiamo concentrando. I primi frutti dunque un lavoro investigativo e repressivo partito in largo anticipo. Sì, questa era la sfida, la sfida era proprio quella di iniziare un'attività durante il periodo invernale perché poi in estate è troppo tardi, non si possono a danno fatto risolvere i problemi dell'inquinamento del mare. Ovviamente l'individuazione delle cause durante il periodo invernale ci consente di lavorare meglio e di concentrarci poi in estate soprattutto sulle strutture turistiche. La Regione Calabria sta facendo molto attraverso il Presidente Occhiuto ma bisogna ridurre il gap delle carenze strutturali. Ci sono tanti comuni che non sono collegati ai depuratori, ci sono tante strutture che sversano direttamente lungo i corsi d'acqua, i liquami arrivano direttamente al mare, c'è il problema della depurazione e dello smaltimento dei fanghi di depurazione, su questo è stata messa l'ordinanza del Presidente della Regione. I nodi sono venuti al pettine e se non ci fosse stato questo intervento probabilmente quest'anno sarebbe stato ancora peggio dell'anno scorso. E ancora su questo tema, dopo l'annuncio della nuova ordinanza per lo smaltimento dei fanghi e di depurazione di qualche giorno fa, ad opera proprio del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, arrivano ancora importanti novità, ovvero la creazione, l'intenzione di creare una nuova governance regionale che gestisca i rifiuti ma anche le risorse idriche e che coinvolga obbligatoriamente tutti i comuni calabresi. Sentiamo di cosa si tratta. Un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente al territorio della Regione, sia per il servizio idrico integrato, sia per il servizio di gestione dei rifiuti, è un unico ente di governo per questi servizi cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Calabria. Sono questi gli obiettivi che la Giunta regionale, presieduta da Roberto Occhiuto, si pone in tema di organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente. Con una delibera proposta dallo stesso Occhiuto e approvata nell'ultima seduta, la Giunta ha depositato in Consiglio regionale un disegno di legge che riforma il settore idrico e quello dei rifiuti, prevedendo la costituzione dell'autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria. La gestione unitaria dei servizi pubblici locali, scrive la Regione, costituisce un indubbio valore in capo a un'unica governance che sia tuttavia espressione delle comunità locali. È necessario pertanto, questa l'intenzione dell'esecutivo regionale, procedere al riordino della disciplina in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali e ambientali. Il disegno di legge è composto da 21 articoli, tra i più significativi quelli relativi all'autorità rifiuti e risorse idriche Calabria, ente pubblico al quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Calabria. Il disegno di legge della Giunta Occhiuto passa adesso all'esame della seconda e della quarta commissione del Consiglio regionale, prima di approdare in aula. Ancora temi ambientali in questa prima parte del nostro OTG. Sui rigassificatori noi abbiamo sviluppato un progetto che è già stato autorizzato a Gioia Tauro con Sorgenia. Lo Stato sta valutando la sua strategicità. È uno dei migliori progetti. Vogliamo dare il nostro contributo per aprire un'altra via di rifornimento del gas. A dirlo è Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato del gruppo IREN all'Ital Press in merito all'impegno del gruppo nella realizzazione di rigassificatori nella porta di Gioia Tauro. È in grado di aumentare l'indipendenza dal gas russo. Il costo dell'impianto in Calabria, lo ricordiamo, è stimato in poco più di un miliardo con una capacità di gestire 12 miliardi di metri cubi annui di gas. L'Italia, ricordiamo, ne utilizza all'anno quasi 80 di miliardi con un miliardo di metri cubi di capacità di stoccaggio. Dunque queste le importanti novità che arrivano da Gioia Tauro, mentre ci sono ancora altre novità che arrivano ancora una volta dalla giunta regionale. Questa volta nel mirino del governatore Roberto Chiuto ci sono le terme luigiane con le intenzioni annunciate di acquistare le quote della Sateca attraverso Fincalabra, ma ha ribadito oggi in un videomessaggio Roberto Chiuto quelle che sono le intenzioni di acquistare e di gestire tutto il settore termale della nostra regione. Sentiamo. La regione Calabria è interessata ad acquisire il pacchetto azionario della società che gestisce le terme luigiane. Lo conferma in un video pubblicato questa mattina sui social il governatore Roberto Chiuto. Leggo i vostri messaggi. Tantissimi ogni giorno mi scrivono delle terme luigiane, ancora di più stamattina perché un giornale ha pubblicato un articolo nel quale si dice che la regione sarebbe interessata ad acquisire il pacchetto di controllo della società che gestisce le terme. È così perché delle terme mi sto occupando da mesi, ho parlato con i dipendenti, ho parlato con i sindaci, ho parlato con i principali azionisti della società che gestisce le terme e ho detto a Fincalabra già qualche settimana fa di fare una valutazione sulla società e di intavolare una trattativa con la società che gestisce le terme. Perché sul settore termale io vorrei che il mio governo regionale facesse un grande investimento, non solo sulle terme luigiane ma su tutte le terme della Calabria e questo può essere il primo passo. La finanziaria regionale potrebbe essere utilizzata per acquisire in toto, in maggioranza a Sateca, per uscire da una crisi che dura da anni. L'idea in realtà sarebbe quella di costituire un'unica società che possa gestire tutti gli stabilimenti termali calabresi per armonizzare la gestione e puntare sul settore, attirando flussi turistici soprattutto dall'estero, come previsto nei piani approvati di recente, proprio dalla città della regionale. La società, secondo quanto appreso, sarebbe valutata tra i 10 e i 15 milioni di euro. Importanti novità arrivano anche per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, LSU, e di quelli impegnati invece in attività di pubblica utilità LPU. Ha stato approvato infatti l'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale. Adesso invece tocca ai comuni. Sentiamo. La regione ha avviato il percorso, ora tocca ai comuni presentare le istanze di ammissione ai finanziamenti. L'argomento è un grande classico della politica in Calabria, la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità. al centro di una battaglia antichissima per il riconoscimento dei propri diritti. L'ultimo decreto approvato risale al 24 marzo scorso ed è stato pubblicato sul bollettino ufficiale nelle scorse ore. Si tratta dell'approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento regionale. È un passaggio fondamentale per l'ingresso nel lavoro stabile di oltre 4.000 persone al termine di un iter travagliato, come provano i rimandi alla miriade di leggi emanate nel corso degli anni riportati nel decreto che individua le somme destinate alla stabilizzazione, che prevede una compartecipazione da parte della Regione Calabria alle risorse stanziate dallo Stato. Dopo l'accordo quadro raggiunto con i sindacati lo scorso 14 marzo, il contributo anno complessivo per singolo lavoratore è stato fissato in 18.000 euro, una decisione salutata dai confederali con soddisfazione. La Regione dunque prenota con l'atto gli impegni per gli anni 2022, 2023 e 2024, un passaggio che significa l'inizio di una nuova fase per il precariato storico. L'ultima fase invece tocca ai comuni che dovranno inoltrare domanda di accesso al contributo regionale per la stabilizzazione. Voltiamo pagina, ci occupiamo adesso di cronaca e lo facciamo con una prima notizia che riguarda un omicidio avvenuto in queste ore nella nostra Regione. Un uomo è stato infatti ucciso stamane a Verzino in provincia di Crotone al culmine di una lite familiare che sarebbe scoppiata per futili motivi. L'omicidio è avvenuto all'interno della palazzina nel quale abitavano su piani diversi sia chi ha sparato sia la vittima. Dunque questa almeno la prima ricostruzione. All'origine dell'omicidio ci sarebbero vecchie ruggine intercorse tra i due e le rispettive famiglie. L'uomo ha fatto fuoco anche contro il figlio della vittima che era presente e sarebbe rimasto ferito in modo grave ed è stato così trasferito nel risoccorso nell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. I carabinieri invece della compagnia di Ciro Marina hanno fermato già il presunto assassino. Si tratterebbe del suocero della vittima. Ancora cronaca perché un'impresa oltre immobile, immobile e finanziario riconducibile a un imprenditore reggino, un imprenditore di mafia, sono stati sequestrati questa mattina. L'operazione è stata condotta dal personale della divisione anticrimine della Questura di Reggio Calabria sotto il coordinamento della Procura della Repubblica della DDA diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri. La figura criminale di quest'ultimo era messa nell'ambito dell'operazione denominata Eliantus e che ha portato alla condanna in primo grado dello stesso per associazioni di tipo mafioso in quanto ritenuto partecipe all'assetto di appartenenza, all'assetto mafioso di appartenenza con funzioni direttive e organizzative. Noi restiamo nel reggino. Parliamo di un presidio di legalità e sicurezza che è stato consegnato e sarà presto consegnato alle forze dell'ordine all'intera comunità di Sinopoli. Queste almeno le intenzioni del sindaco facente funzioni della città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, durante la consegna dei lavori di riqualificazione dello storico immobile di proprietà della città metropolitana dove era ubicata la caserma dei carabinieri della cittadina tirrenica. Sentiamo. Sì, oggi siamo nel comune di Sinopoli. Si aggiunge un altro tassello importante in termini di progettualità per la città metropolitana. Viene riconsegnata a quello che già era una sua destinazione naturale, questa caserma, mantenendo quella che era la storicizzazione appunto di questa struttura dei tempi appunto dei Borboni con un intervento strutturale importante di adeguamento sismico e di vulnerabilità che vede un primo intervento impegnato alla città metropolitana per circa 420 mila euro. Anche qui dobbiamo vigilare insieme al comune, che ringrazio nella persona del sindaco, affinché i lavori possano procedere speditamente. Questo restauro dovuto all'impegno di tutti della città metropolitana del comune poi realizzerà questa grande opera anche per ripristinare e garantire la legalità all'interno del paese. E' ancora protagonista il comune di Reggio Calabria che ha conferito la cittadinanza onoraria a Bernardo Petraria, l'ex procuratore generale di Reggio Calabria e successivamente direttore del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che è stato insignito così del prestigioso riconoscimento durante una commossa cerimonia. Sentiamo. E dunque devo dire che oggi sono non solo onorato e sorpreso, ma sono anche veramente commosso, perché con me oggi qui a questo evento simbolico, ma fino a un certo punto perché Regino io mi ci sento già, adesso lo sono anche formalmente, cioè scritto nel registro dei cittadini onorari di Reggio, sono presenti persone semplici, persone che frequento, per semplici intendo dire non dell'area giudiziaria, ci sono ristoratori, persone che vedevo, che frequentavo normalmente. Questo mi fa sentire più confuso con la popolazione e non solo un giudice che è venuto e che è andato via. In chiusura del nostro TG c'è spazio anche per la musica, parliamo infatti del nuovo lavoro discografico dell'artista e cantautore, nonché anche musicista calabrese Sergio Camariere con il suo nuovo album in uscita il 14 maggio. 18 brani solo pianoforte e Piano Nudo, il nuovo disco di Sergio Camariere in uscita il 14 maggio. L'album, il secondo al piano senza voce per l'artista crotonese, raccoglie canzoni in stile modern jazz, ad aprire l'ultimo lavoro discografico, la tracklist La Rotta degli Alisei. Tra gli altri brani, che spaziano tra blues, jazz e musica classica, le foto di Carlo, dedicato al grande attore Carlo delle Piane scomparso recentemente. Lampedusa, ispirato dalle storie dei migranti che giungono sull'isola e quelli che non arrivano, inghiottiti dal Mediterraneo, Bar Bogart, il bar che negli anni 90 fu gestito dallo stesso Camariere a Firenze. Sergio Camariere, artista e compositore completo, sempre sorprendente, carico di umanità e capace ancora di commuoversi. La sua storia musicale ultra trentennale l'ha portato da Crotone al Festival di Sanremo, sempre con la stessa passione per la musica e lo stesso desiderio di libertà. Bene, per l'edizione del nostro OTG è tutto, vi ricordo i prossimi appuntamenti nel corso della giornata e vi invito soprattutto a seguire la programmazione dell'altro Corriere TV.